Quando abbiamo bisogno di capire qualcosa, di conoscere il significato di una parola o di un termine, cosa facciamo? Generalmente ci affidiamo alle definizioni, che troviamo in dizionari, vocabolari ed enciclopedie. Invece se lavoriamo in un preciso settore, specialmente quello scientifico, iniziamo a comprendere che le definizioni non sono mai univoche, cioè fini a loro stesse, ma che di solito racchiudono anche un principio, un metodo di ricerca, e rappresentano un po' gli autori che le hanno diffuse. La storia è testimone di grandi battaglie tra scienziati sulle definizioni. Succede però, talvolta, che le definizioni con il tempo siano completamente spogliate dalla loro storia, dagli esiti delle battaglie che le hanno prodotte e dal metodo di ricerca in esse contenuto, diventando popolari, estremamente semplificate e di immediata comprensione. Questo è certamente un bene, ma non sempre. La definizione di etologia, in questo caso, è vittima di una semplificazione che ha prodotto un vero e proprio disastro metodologico e ideologico nel suo recento sviluppo. Ognuno di noi può fare un semplice esperimento, chiedere ad amici, parenti, conoscenti e colleghi che cos'è l'etologia. Se siamo fortunati e i nostri interlocutori conoscono anche solo vagamente l'etologia, purtroppo, almeno nel nostro paese, spesso conoscono l'etologia solo gli addetti ai vari settori della zoologia, scopriremo velocemente che la maggior parte di essi ci risponderanno è lo studio del comportamento animale nel suo habitat naturale. Per quanto questa risposta possa sembrare di primo acchito, tutto sommato in parte vera, voi non potete immaginare i danni che ha causato. Occorre necessariamente capire che una definizione errata può davvero portare a conseguenze molto gravi nello sviluppo di una disciplina scientifica e sulla sua affermazione, soprattutto. A seconda di quanto la definizione ci suggerisce, direttamente o indirettamente, si muoverà una massa di persone interessate che tenderà a raggiungere gli obiettivi partendo dal presupposto metodologico, spesso inconscio, di soddisfare quanto intuito dalla definizione. Mettendoci nei panni di un curioso o di un qualunque aspirante etologo, andiamo quindi a cercare la definizione di etologia. In un vocabolario zanichelli del 1973, alla voce etologia, si riporta la seguente spiegazione. Studio del comportamento degli uomini e degli animali in relazione all'ambiente in cui vivono. Se invece cerchiamo sul web, il metodo oggi più evoluto ed uso comune, scopriremo che, ad esempio, nel dizionario online del Corriere della Sera, per l'etologia si intende lo studio degli schemi di comportamento degli esseri viventi negli ambienti naturali. Quest'ultima definizione è purtroppo la più comune ed è la responsabile di un consistente errore interpretativo e, cosa ancora più grave, dell'allontanamento dei giovani dalla speranza di poter diventare etologi. Non sarò mai abbastanza severo nei confronti di chi, molto stupidamente e superficialmente, definisce l'etologia in questo modo. Con tale definizione si raffigura l'etologo come un naturalista che ha avuto la fortuna e le risorse per girare il mondo e documentare i comportamenti degli animali, spesso stravaganti, con una telecamera e di questa immagine ne sono responsabili soprattutto in mass media. Nella mente del giovane aspirante etologo si sviluppa un fascino irresistibile per quella persona che, seduta sul cofano di un bel androver mimetico, osserva con il binocolo un gruppo di leoni o un gruppo di elefanti e riporta, non si sa bene cosa, il tutto su un bel tacquino dalla copertina verde militare. Nell'immaginario collettivo l'etologo è ritratto più o meno così. Le persone ragionano per immagini e, di certo, non collegano facilmente un uomo incravattato ad un lavoro di questo tipo. Questa configurazione non può che allontanare i giovani aspiranti dalla disciplina, perché se è vero che tale attività può far parte del lavoro di un etologo, anzi, ne è certamente parte, è pur vero che occorrerebbero risorse finanziarie davvero enormi per i viaggi necessari, sacrificio che per la maggior parte delle famiglie non è possibile affrontare. Ed è proprio la precisazione nel loro ambiente naturale ad essere responsabile del crollo dell'interesse nei confronti dell'etologia degli ultimi 30 anni, ed è anche errata da un punto di vista metodologico. Se chi volesse diventare etologo sapesse che almeno tre quarti dell'etologia si sono sviluppati grazie allo studio degli animali in ambiente controllato, una volta si parlava di cattività, ma questo termine oggi penso possa essere considerato desueto. Forse sarebbero maggiormente motivati a raggiungere il loro sogno. Oche, canarini, altri piccoli e grandi uccelli esotici, anatre, galline, tacchini e poi cani, gatti, genette, topi e ratti, gatti, insetti in teche e pesci in acquario, sono stati i protagonisti indiscussi dello sviluppo di tale disciplina e sfido chiunque a dimostrare il contrario. Dunque, l'aspirante etologo può serenamente rilassarsi e prendere consapevolezza del fatto che sicuramente ha più animali a disposizione in provincia di Milano che non in Africa, che avrà più spunti di riflessione in una stalla di capre piuttosto che su uno scoglio delle terre del fuoco. Lo studio del comportamento degli animali nel loro ambiente naturale è soltanto una parte dell'etologia, nobile e necessaria, ma soltanto una parte. Ma per molti miei studenti, e immagino a maggior ragione nelle altre persone, il concetto non è mai stato ben chiaro. Non studiare il comportamento degli animali liberi nel loro ambiente naturale non significa studiarli in gabbia. Al contrario, l'etologia è sorta su un metodo di studio importantissimo e fondamentale utilizzato da Conrad Lawrence, premio Nobel 1973, fondatore dell'etologia, per contrastare la metodologia bieviorista della scuola psicologica americana. Questo concetto verte sulla necessità di studiare gli animali in ambiente controllato, ma liberi nella loro espressione comportamentale. Questo significa che l'animale deve essere posto in condizioni tali da non poterci sfuggire, ma nelle quali deve essere libero di esprimersi come meglio crede. Le due barriere che costituiscono un ambiente controllato sono la barriera psicologica, quando cioè legato emotivamente, ad esempio, alla presenza umana, e quella spaziale. E non parlo di gabbia. Anche il gatto affezionato alla casa dove egli vive è un animale in un ambiente tutto sommato controllato. Soltanto così saremo in grado di cogliere tutte le espressioni comportamentali individuali e di tutta la specie, e spesso anche qualche suggerimento sui minimi comuni denominatori dell'intero genere e di comprenderne i meccanismi. Sia chiaro, dunque. L'etologia studia l'espressione comportamentale degli animali e dell'uomo è per tale ragione essi devono essere in condizione di piena libertà motoria e decisionale, ma non necessariamente liberi, intesi come selvatici, nel loro ambiente naturale. E' chiaro che nel corso dei nostri studi saremo prima o poi obbligati a completare le nostre conoscenze con lo studio del comportamento in ambiente naturale e viceversa. E per chiarire questo porterò ora l'esempio dei miei studi. Io mi occupo del grande insieme delle patologie del comportamento, sulle quali rifletto e cerco di elaborare teorie e idee utili per un loro studio scientifico ed una loro prevenzione. Questo mio interesse, però, nasce dai primi studi sulla sindrome d'autodeplumazione dei pappagalli. All'inizio studiavo tale problema comportamentale nel mio allevamento e nei miei pappagalli, e nei pappagalli che le persone mi portavano per tentare di risolvere il problema. Giunto all'università come dottorando, ho dovuto poi necessariamente ingrandire i numeri per dimostrare scientificamente quelle che fino ad allora erano rimaste soltanto delle mie speculazioni dettate dall'esperienza personale. In seguito, sono sbarcato allo Zoo di Londra per osservare il comportamento di pappagalli allevati naviari davvero grandi e che difficilmente avrei mai potuto osservare dagli allevatori privati. In ultimo, prima o poi si presenterà la necessità, auspico di studiare il comportamento dei pappagalli nel loro ambiente naturale, e tutto questo al fine di completare il quadro di conoscenze su questa patologia del comportamento. Suggerisco dunque ad ogni aspirante etologo di riflettere approfonditamente sui precedenti passaggi, perché occorre una piena presa di consapevolezza del fatto che l'etologia non si fa necessariamente solo nelle foreste o nelle giungle, sotto la pioggia e sotto il sole, con spese di viaggio insostenibili, ma soprattutto all'interno o in prossimità delle mura domestiche. Ricordo agli appassionati che le più grandi scoperte etologiche sono state ottenute attraverso lo studio di Ocke, Conrad Lorenz, di cani, Ivan Petrovich Pavlov, ratti e piccioni, Brunnus Skinner, anatre, Charles Otis-Wittman, gatti, Paul Leiausen, e infine addirittura uomini, Irenaus e Ebensfelds. Quindi non c'è nulla di più deleterio che una definizione sbagliata. Può sembrare poco importante, ma di là dell'impatto iniziale, una definizione può davvero contenere materiale per una miriade di interpretazioni. Se io vi dicessi che l'etologia è lo studio del comportamento animale nel suo ambiente naturale, di fatto, indirettamente, vi fornerei anche il materiale per affermare che il comportamento degli animali non è osservabile in ambiente artificiale, o comunque con le osservazioni condotte, non hanno significato. Questo può avere serissime ripercussioni sull'interpretazione del comportamento, ed ogni giorno assistiamo, purtroppo, anche a manipolazioni intenzionali di questo tipo, ad esempio da parte di alcune associazioni animaliste, per sostenere le loro battaglie, troppo frequentemente ideologiche e dormatiche. Precisare cos'è l'etologia e di cosa si occupa è quindi di fondamentale importanza. Dalla morte di Conrad Lorenz in poi, l'etologia ha perso drasticamente la sua dimensione, e questo probabilmente anche grazie al generoso intervento di molti rivali nel mondo della scienza, che preferivano accantonare gli etologi per garantirsi forse un maggior spazio di manovra nel protagonismo scientifico e nella ricerca di fondi per le loro ricerche. Si parta dunque dalla definizione di etologia enunciata proprio da Conrad Lorenz, che ottenne il premio Nobel nel 1973, proprio grazie ai suoi studi sul comportamento. Conrad Lorenz soleva definire l'etologia così. L'etologia, o studio comparato del comportamento, è di facile definizione. Consiste nell'applicare quei metodi divenuti d'uso corrente e naturale in tutti gli altri campi dell'etologia dopo Charles Darwin, e di porsi gli interrogativi, seguendo lo stesso criterio. Tuttavia, questa definizione necessita di alcune delucidazioni. Innanzitutto, occorre constatare che Lorenz colloca l'etologia chiaramente nell'insieme delle scienze della vita, regruppate sotto il termine di biologia. Quindi una diramazione che intende studiare ed indacare quei processi vitali, nel caso dell'etologia le manifestazioni comportamentali, che generano, modulano e infine regolano la vita. Il fatto che nella definizione venga fatto direttamente riferimento a Charles Darwin significa che l'etologo austriaco intende, così come già intuito da alcuni suoi predecessori e maestri, vedi Charles Otis Whitman o William Craig, indagare nella sfera evolutiva dei comportamenti. Intende cioè studiare le manifestazioni comportamentali sotto un'ottica evolutiva, considerando questi sia come frutto dell'evoluzione, sia come matrice della stessa e trattandoli come un qualsiasi altro organo. Lorenz, quindi, nel collocare l'etologia, mostra aspetti molto importanti dai quali non possiamo assolutamente prescindere. Un'altra particolarità di questa definizione, che sfugge, ahimè, ai molti, è che l'etologo austriaco la considerava di facile definizione. Ecco, il discorso legato alla semplicità è forse una delle chiavi più importanti per un sereno sviluppo dell'etologia attuale. Dobbiamo necessariamente prendere spunto da Lorenz per impegnarci affinché l'etologia continui ad essere una cosa semplice, dove per semplice intediamo un modus operandi che garantisca il risultato scientifico e che sappia comunicarlo a tutti, ma anche un po' un monito ai ricercatori attuali, ricordando Morgan, 1894, il quale suggeriva quanto segue. In nessun caso noi possiamo interpretare un'azione come il risultato dell'esercizio di una facoltà psichica superiore, se essa può essere interpretata come il risultato dell'esercizio di una facoltà che si trova più in basso nella scala psicologica. Quindi la semplicità riguarda l'etologia, così come tutte le altre scienze, deve essere necessariamente applicata durante gli studi, durante l'organizzazione delle ricerche, durante gli obiettivi che uno scienziato si prefigge, specialmente nella comunicazione dei risultati al pubblico. Dunque, sintetizzando al massimo, l'etologia è quella branca della biologia che si occupa dello studio dei comportamenti degli animali in modo comparato in relazione alla loro evoluzione, alle loro particolarità morfo-funzionali e in funzione dell'ambiente in cui essi sono collocati.